Abbiamo pensato di fare questa mostra dal titolo Death's Motoring Art, il motore dell'arte e la passione. Sin da piccolo ho avuto due grandi passioni, i motori e in particolare i grandi marchi italiani che hanno celebrato la storia del nostro paese e l'arte, grazie a mio padre Nicola, anche gli pittore e gallerista. Crescendo con impegno ed edizione li ho portati avanti creando un binomio nella mia collezione Death's Motoring Art. Questa sera durante il vernissaggio sono state esposte alcune 500 storiche in collaborazione con il Fiat 500 Club Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti.